ciao ragazzi bentornati sul canale di guadagnare online con le criptovalute quante volte ma quante volte mi son sentito dire ma tu guadagni queste cifre perché hai tanti referral sotto di te quindi io non riesco a tirarne su bene stasera non avete più scuse perché vi farò scoprire un modo per trovare referral svolgendo alcuni compiti ma prima vi ricordo di effettuare l'iscrizione al canale per rimanere sempre aggiornato con tutte le novità che andrò a pubblicare utilizzate anche il canale telegram iscrivendovi con questo pulsante mi raccomando perché qui darò tutte le news veloci i vari scam vari airdrop e via dicendo quindi vi serve sicuramente anche il canale telegram ma per andare all'argomento della serata dobbiamo cliccare su questo pulsante che ci porta al mio sito web scusate per il mio cane che abbaia giustamente è il momento opportuno allora dobbiamo andare nella sezione più ref che ho aggiunto proprio poco fa cliccandoci sopra ci si apre questa pagina e dobbiamo cliccare su questo link risolviamo il solito captcha attendiamo 8 secondi come al solito fino a che ci esce il pulsante get link che andiamo a schiacciare bene ci si apre questa pagina dobbiamo cliccare ovviamente su registrati per appunto effettuare il login successivamente quindi username, email, password, nazione, età, nome, cognome via dicendo e poi vi dovete registrare io ovviamente faccio il login bene effettuato l'accesso si aprirà questa pagina praticamente questo sito ci dà l'opportunità di essere anche seguiti e supportati da persone che seguono già vari business e quindi avere tutto un supporto da altre persone per muoverci in questo sito allora ci sono tre pulsanti qua allora il primo è come guadagnare online ci clicchiamo sopra qua praticamente ci fa delle piccole lezioni su come iniziare a guadagnare con i vari business dopodiché c'è la sezione come trovare referrals allora ovviamente dovete iscrivervi al portale e accumulate praticamente dei punti partecipando alla community svolgendo dei vari compiti quindi iscrizione al sito dichiarare i propri business che stai effettuando in quel momento accumuli punti in varie modalità con l'iscrizione ce ne vengono dati 500 in omaggio dopodiché c'è una ptc interna che ce ne dà 5 ogni 3 ore e via dicendo ci sono varie modalità di accumulo dei punti ritorniamo ah no poi c'è trova il business adatto qua c'è praticamente una sezione nella quale dobbiamo compilare per esempio non so scelgo metodi gratuiti in italiano processori di pagamento che accettiamo sistema di referenza deve esistere non è indispensabile la pronotazione poi vi spiego cosa serve e come vedete ci suggerisce degli altri siti che sono praticamente provati da altre persone ci sono le prove di pagamento e via dicendo ritorniamo nella home page questo è praticamente il mio account come vedete non ho più 500 punti ma ne ho 250 per quale motivo? perché? allora innanzitutto ho dichiarato dei business che sto utilizzando ne ho trovati per il momento tre sul sito sono Clixcoin Pay to YouTube e YouGetProfit già inviando una prova di pagamento di YouGetProfit io ho ottenuto 50 punti quindi possiamo eventualmente scrivere o modificare delle testimonianze prendiamo dei punti anche per quello e via dicendo oppure possiamo dichiarare un nuovo business che non è presente nel sito anche in questo caso ci verranno dati dei punti io sinceramente non ho ancora avuto tempo di farlo però sicuramente ne ho più di uno da dichiarare quindi sono altri punti che vado a accumulare ma a cosa ci servono questi punti? come vedete qua c'è una prenotazione cosa vuol dire? ho prenotato YouGetProfit praticamente nella giornata di domani il 16 luglio per tutto il giorno vediamo se mi apre ok allora il 16 luglio per tutto il giorno tutti gli utenti che si iscriveranno a YouGetProfit si iscriveranno sotto di me perché ci sarà praticamente il mio link di sponsorizzazione questo mi è costato 400 punti però è sicuramente un modo per trovare nuovi utenti questo è il modo per avere dei referral aggiuntivi quindi se andiamo nel menu nella sezione Business GetPaidTo PaidToClick qua possiamo cercarci i siti che utilizziamo tramite il bot per le PTC quindi io in questo caso ne ho un po' da aggiungere perché appunto non trovo quelli che sto portando avanti io quindi questa è un'ottima cosa do un'occhiata ancora veloce perfetto no 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 ce ne sono un po' da pubblicare benissimo se questo video vi è piaciuto lasciate un like mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube e al canale Telegram per rimanere sempre più in contatto per oggi è tutto noi ci vediamo alla prossima ciao ciao